Buongiorno a tutti, siamo a CIBUS 2016 a Parma, siamo allo stand di Lauretana, azienda che produce acque della provincia di Biella. Sono in compagnia del signor Vineis, responsabile commerciale dell'azienda. Signor Vineis, buongiorno. Buongiorno. Due parole sulla produzione lauretana che tutti conosciamo. Allora, la produzione lauretana quest'anno si arriccherà di una nuova linea di produzione che partirà agli inizi del mese di giugno, che porterà a triplicare quella che è la produzione attuale di bottiglie in P&T. Prossimi eventi in programma? Beh, abbiamo il Rimini Wellness, perché da sempre lauretana è vicino agli sportivi, poi ci sarà una fiera internazionale che sarà il Sial a Parigi, tutte fiere di settore molto importanti. Ci rivediamo a Sial allora, grazie. A presto, grazie.